Gode di buona salute, i risultati lo hanno dimostrato, il lavoro della federazione insieme al lavoro delle società sicuramente sta dando adesso i propri frutti. Noi abbiamo tanti giovani molto interessante, noi come squadra senior li stiamo seguendo, oltre ovviamente al lavoro che stanno facendo i vari allenatori, i vari settori tecnici del giovanile. Quindi diciamo che è uno stato di salute, è un buon momento, diciamo che la palla a volo nazionale, la palla a volo italiana gode di buona salute, sia maschile che femminile. Penso che sia fondamentale, ovviamente a partire dal reclutamento e poi dopo dal lavoro tecnico che viene svolto, è un lavoro fondamentale. Credo che sia altrettanto importante poi dopo questa prima fase anche dare un seguito, cioè mi riferisco al fatto di poter dare, di cercare di dare quanto più spazio possibile ai giovani che si affacciano e che escono dai vari settori giovanili. Perché sennò poi dopo rischiamo magari di non ottenere appieno i risultati e il lavoro e non sfruttare appieno il lavoro avviato dai settori. Quindi per quanto riguarda il discorso delle nazionali, ma per quanto riguarda anche i club, è importante che questi giovani, magari che arrivati a finire il percorso del giovanile, poi dopo trovino spazio anche il primo squadro. Questa è una cosa molto importante e sulla quale dobbiamo, secondo me, ancora lavorare un tantino più. Ma la pallavolo italiana spero che continui su questa direzione. Ovviamente qualche risultato sta arrivando, anche più di qualche risultato, insomma. Quindi il brand è quello giusto, io spero che tecnicamente dal punto di vista dei risultati continui su questa strada.